Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 ralentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno per allagamenti in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI per lavori chiusa l'uscita di Tirenia provenendo da Firenze fino all'8 dicembre. Tratto chiuso per lavori al km 0 della SP224 di Marina di Pisa. Nei prezzi lo svingolo di via Quaglierina-Livorno in FIPILI per frana al km 79-865. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Firenze in Prunete in direzione Firenze. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Invitiamo a rispetto dei limiti di velocità anche in ZTL nelle zone 30. Morsi in Toscana Info in servizio in collaborazione per Regione Toscana, città metropolitane, comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!